Eh, non c'è più caffè! Che direi signor Nino? E se aspetto voi sto fresco! Chi è? Pacco doppio qualità rossa? Sì, due pacchetti insieme e più convenienti! Così mai più senza caffè! E meno male che ci ha pensato la vazza, è una bella idea! E in regalo la bellissima caffettiera Carmen Sita, raccogliendo 100 punti sulle confezioni multiple!